C'è un confronto continuativo con quello che allo Stato è l'unica casa automobilistica che produce auto nel nostro paese e mi auguro che il confronto giunca a delineare appieno un piano di sviluppo che nel tempo possa portare a realizzare in Italia almeno un milione di veicoli con il marchio Stellantis, accanto ai quali mi auguro che altre case automobilistiche possano realizzare i loro investimenti e quindi produrre altre auto nel nostro paese sia per il mercato interno che è molto appetibile sia soprattutto per l'esportazione, essendo un'auto made in Italy comunque considerata nel mondo dei consumatori come l'auto di eccellenza.